Siamo nel nostro nuovo hangar, abbiamo tutti gli aerei da farvi vedere ma c'è una cosa ben più importante prima da fare Chi è vestito meglio a tema per guidare degli aerei? Io Allora Ferre, io capisco il mio outfit che non è bellissimo ma almeno a tema col guidare un aereo Ma mi spieghi cosa hai pensato? Cioè, Ferre, gli aerei si guidano, tu che cosa hai? Sono dei binocoli quelli Questa è una tuta per prepararsi a qualsiasi venenza Vedi che ho anche il caschetto pieno di cose che sinceramente neanche ho capito a cosa servono Poi era bello esteticamente e quindi mi sembrava giusto e adatto per fare il pilota Tu invece sei un po' strano Io sono strano, non tu Cos'hai in faccia? Sei tu strana Cos'hai in faccia? È per guidare quelli aerei vecchi, Ferre Ma Stef, sono occhiali da sci quelli, innanzitutto hai sbagliato, non c'entrano nulla Ferre, non lo sapeva nessuno Ferre, perché l'hai detto? Non lo sapeva nessuno e hai fatto la spia In ogni caso votate, fateci sapere quelle preferite E ragazzi, come va? Io sono Ferre Niki E sono Stef, perché se ci chiamo GTA 5 E stiamo qui con un nuovissimo episodio di GTA Quest'oggi metteremo a confronto tutti gli aerei nuovissimi che sono stati appena messi con il nuovo aggiornamento Ma ovviamente prima di tutto facciamo un giro nell'hangar, giustamente, mi sembra giusto farlo vedere Esattamente, dai sì, abbiamo preso il migliore che c'è, abbiamo preso anche tutti gli aerei, siamo riusciti a comprarci tutto No, tu li hai presi tutti, io no Ah, è vero, in effetti tu non ce li hai tutti, però siamo nell'hangar di Ferre Sono più povera di te State già guardando l'hangar di Ferre, questo qua è il suo bellissimo ufficettino Ferre, qua si può andare, oh sì, guarda, abbiamo anche il magazzinetto piccolo piccolo Sì, anche se poi esci dall'altra parte che non serve a molto Perfetto, usciamo da qui, allora qua c'è l'appartamentino, giusto? Ricordo bene Eh, dove sei Stef? Perché mi hai già fatto perdere Non puoi perderti nel tuo stesso hangar Allora, io non l'ho visitato molto Stef, eh, no Sì, comunque sì, lì c'è l'appartamento Perfetto Ok, questo è il mio appartamento Bellissimo, ok, dopodiché andiamo a vedere un pochettino Cosa abbiamo a fare? Dovresti farmi tu da, diciamo, guida turistica Eh, un hangar rosso Un hangar rosso? Sì Non hai molto altro da dire? Non proprio, eh, cioè un hangar è una specie di garage Ok, sì, ma ad esempio qui è dove si mette tutta la merce Potevi dirmelo, capisci? Eh, ma io non ho ancora merce, quindi ancora non ho fatto nulla Non ha senso, esatto, far vedere degli scaffali vuoti Ok, quindi sia un hangar, un garage con il tetto molto alto in cui al posto delle macchine metti gli aerei Grazie Presentazione perfetta Bellissimo, bellissimo Allora, facciamo vedere tutti gli aerei e come te li sei fatta Abbiamo questo qua, che dice see you later, giusto? Ciao, ciao Steph, puoi andartene Inteso per quello Allora, questo è uno degli aerei più fighi, secondo me E infatti poi dopo lo faremo vedere, non spoilerò nulla Ok, intanto dobbiamo fare il confronto di tutti gli aerei Esatto, è strabello, è strabello Non solo esteticamente ma anche a livello di utilità Ok, poi quale abbiamo? Il deltaplano Poi c'è il deltaplano, vabbè, l'ho semplicemente decorato Quindi non è che potete farci troppo Carino, carino, carino Questo te lo davano gratis quando compravi l'hangar E non potevi sistemarlo un po'? No, perché è talmente brutto che l'ho lasciato a base Ah, ok Vedi, questo è quello che guido io con questi occhiali, capito? Eh, sì L'aero classico Questo è il mio preferito Guarda l'elica di dietro Io mi chiedo Allora, allora C'è un unicorno, Steph Io voglio dire, l'ho notato che è un unicorno Però volevo dire una cosa Capisco Fede che quando trova queste cose se le compra Ma la Rockstar perché le mette? Per chi? Perché sanno che c'è una come Fede Pronta a comprare queste cose Esatto, esatto Io me lo chiedo sempre Comunque, boh, sì Allora, non lo criticare Io lo so che sei geloso No, 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 io vorrei capire il simbolo della pace In un aereo da guerra Perché sono una persona pacifica Eh, sì Lo sanno tutti Eh, sì, tantissimo E poi ti volevo dire Guarda che anche se fossi maschio Me lo sarei comprato così perché è degno di nota Quindi non c'entra niente l'essere ragazza qui Eccoci nel mio hangar Allora, li abbiamo tutti e sette fare Li vuoi elencare tu e li elenco io Allora Allora, ti dico già Steph Io siccome voglio fare questo video in modo molto professionale Ho scritto tutti i nomi degli aerei Lo so, però io voglio cercare di ricordarmeli Ti voglio presentare io Alfa Z1 lui Giusto? Ed è il più piccolo in assoluto E secondo me anche il più veloce È davvero una foglia da guidare Ed è strabello Gli ho messo una grafica molto seria Cioè tu mi hai preso in giro per i cuori E ti metti i pinguini Ma sai perché? Perché? Allora, quando uno Steph ha voglia di gelato Ha bisogno di qualcuno che glielo porta in fretta Quindi questo qui è l'aeroplanino a trasporta gelati Non esiste, Steph E quindi c'è il pinguino Non esiste Dovrebbe esistere Dovrebbe esistere È solo per quello Quindi secondo me è un consiglio alla società Allora Questo qui è il ROG Ti anticipo prima che li dici perché mi ricordo a memoria No, perché mi sono scritta una lista di ben sette aerei diversi Non lo so, però è stato inutile Perché dubitavi che io me li ricordassi Esatto, come sempre Questo è il migliore a due posti È davvero molto classico esteticamente Ma molto molto bello Poi abbiamo il Tula Che è foglia pura Perché è gigante Si può Questo, Steph, te lo dico Per estetica almeno Perché poi li dobbiamo tutti provare È il mio preferito Perché è gigante Ogni volta quello che sembra il più cattivo È il preferito di fare Sembra cattivissimo È super pericoloso Infatti quello che ho scelto io a livello estetico Sembra più cattivo del tuo Secondo me Dovresti cambiarlo un pochettino esteticamente Per farlo sembrare appunto più cattivo Dopodiché abbiamo L'elicottero a un posto che è l'Avok Ah, lei era pronta Ma lo so ancora Questo costa davvero Costa davvero poco Però secondo me non è un granché Nel senso È bruttino Un elicottero a un posto Già è bruttino esteticamente Ma fammelo velocissimo Se va più veloce di un elicottero normale Lo concepisco Ma se mi va pure abbastanza lento Diventa un po' inutile Sì anche lo trovo un po' inutile Ma vabbè ci sta Può piacere Quindi anche quello per gusto E quindi ci sta mettere anche l'elicottero super Deltaplano che si chiama Ultralight A fare piace un sacco A me non piace Devo essere sincero A me i deltaplani non piacciono un sacco E da guidare questo Ve lo dico già È il peggiore Perché Non gira Qua abbiamo Allora aspetta Qua ti voglio vedere Starling Giusto? Allora LF Trattino 22 Starling Ti ho fregato Perché io avevo anche la sigla Ti ho fregato A che serve Comunque questo qua Secondo me A livello di Velocità Combinata Alle armi Potrebbe essere il migliore Perché è molto manovrabile È bello questo Ed è davvero interessante Da guidare davvero bellino Va a competere col Marlock Che valutiamo adesso Sifari mi ricordo anche il suo nome Giusto Marlock? No hai sbagliato No? Ne ho sbagliato uno Ho sbagliato uno Questo è V Trattino 65 Molotok Molotok Marlock Molotok Era uguale Dai Per quello io me li sono scritta Perché così non si sbaglia mai Stef Allora questo aereo Mi lascia un po' in decisione Perché dietro Perlomeno le ali E tutta la parte di dietro È molto bella È bellissimo Esteticamente soprattutto Guarda qui con le bombe È stra bello Davanti Però io questo muso tagliato Proprio non lo capisco Però secondo me Ti spiego Non lo capisco Dato che diventa bollente Dopo che lo usi Secondo me qua ti fai il barbecue E quindi comunque è utile No Stef Avrà sicuramente Dobbiamo trovargli un'utilità Fere Un'utilità migliore Partiamo da lui Fere Sì ci sta Che dici dall'alfa Z1 O come dico io Alfa Z Non fai ridere Stef Beh in italiano è alfa Z Fere No Z1 Lo Z degli alfa Uno Allora usciamo fuori Questo aereo ha un problema gigantesco Che vi farò vedere a breve Dimmi Allora Per partire Velocissimo E guarda quanto è bello da guidare No bello certo Ok cioè guarda quanto è veloce Per di più se tu Ad esempio Cosa ne so Magari non vuoi andare a scuola E questa è una chicca Consolini vi consiglio di salvarvela Tu non vuoi andare a scuola Ti metti su GTA Due minuti con questo aeroplanino Inizia a girare così E vedi cosa succede Smettila subito Capisci? Secondo me ha un'utilità Che andrà considerata Perché potrebbe essere davvero utile A parte gli scherzi Allora com'è da guidare Dai scrivi un pochettino Da guidare è spettacolare Quindi è bello si manovra bene Gira velocissimo È straveloce Ed è fantastico Però Non ha armi Ok quindi Non possiamo fare nulla Mentre siamo sopra Dovrebbe avere giusto La possibilità di attivare Il fumogeno Che questo ce l'hanno un po' tutti Che comunque Ti può salvare la vita Il fumogeno È un fumo Steph È il fumo dell'aereo Attento che ti schiassi No 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 Ecco qua Steph Questo perché si mette a guardare il fumo Comunque la cosa bella È la bella È che il fumo È molto denso Quindi lascia proprio tutta la scia E quello lo trovo carino negli aerei Sinceramente mi è piaciuta Come aggiuntina A livello estetico Cioè di cosa da fare con l'aereo Per me è la cosa più figa In assoluto A livello di costo È il terzo meno caro Quindi è anche abbastanza economico E non è per niente male Economico Su GTA niente economico Lo sappiamo tutti Comunque cioè guarda Ti faccio vedere al volo il prezzo Non è così esagerato È questo qua 2 milioni e 1 Se abbiamo fatto le missioni Altrimenti 1 milione e 6 Comunque una cosa che andava valutata Che volevo valutare È il fatto che per atterrare È scomodissimo Con tutti o solo con quello? Con quello in particolare È proprio È difficile Cioè Tu magari venire da parte all'altra Magari è difficile Rispetto agli altri aerei Che ci sono suggeriti E ci devi un attimino Prendere la mano no? Più o meno? O è proprio scomodo? Che è proprio scomodo Cioè perché comunque Ormai uso aerei e elicoteri Da tanto tempo Sono abbastanza bravo Ad atterrare È quello Passiamo al rog Allora 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 Se ricordo bene il rog Dovrebbe avere una funzione Che io adoro Mi sa che non la fa Se sto fermo Dovrebbe avere La cosa che ti sbalza via Quando ti butti Capito? Ah sì 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 Non mi viene il nome Del sedile Con Reclinabile? No Reclinabile Non ci trova nulla Allora esplosivo Andiamo Sedile esplosivo Glielo do io il nome Va bene va bene va bene Ovviamente partire con questo È un po' più complesso Perché è un aereo Abbastanza normale Anzi se noti Abbastanza difficoltà A partire Però dopo che parte Comunque non è male Nel senso Non è molto veloce Secondo me È meno veloce Dell'altro sicuramente Non è molto manovrabile Lo vedi che ha abbastanza Difficoltà a girare Perché rimane così rigido Quando gira Non so che è molto Capito? È un po' Sì 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 Un po' rigidino Vedi 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 Guarda 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 come vi si già Non ti schiantare però Steph Io ci sto provando Ma vedi che Continua a guidare Sì è strano È strano Non ha nessun tipo di armamento Da quello che vedo Speravo che almeno Sparasse questo Sì ma Speravo Infatti sto rimando Abbastanza deluso Bello esteticamente Ma perde un po' Sai anche il fatto che comunque A due posti non è banale Se ci pensi in questo stile A due posti Non c'è praticamente nulla No c'è Quello è vero Quindi comunque Dobbiamo valutarlo Di sicuro hanno voluto dare Il contentino Nel caso in cui vuoi volare Andando in giro con qualcuno E non vuoi stare in un elicottero Diciamo che questo veicolo Può essere carino Però Potevano fare un po' di meglio Potevano mettere qualche arma Qualche cosa Ah comunque non ti ho detto In effetti Il ROG a livello di scala di prezzo È il secondo meno caro Ok Quindi costa addirittura Meno dell'Alpha Z1 Ok Quindi comunque Va valutato anche quello Due posti Un po' scomodo da guidare Non troppo veloce Però comunque È molto economico Se ricordo bene Edito era un milione e sei Il prezzo Non facendo le emissioni Non è per niente male Ah quindi sarebbe buono Allora la prima cosa Da far vedere nel Tula È questa Quindi E lo struzzo Cosa? Lo struzzo No Fede È questo Ora si che si ragiona Ora si Eh lo so C'è un bell'ero Ma quindi in questo Si può salire in due o no? Si Si può? Si Quindi uno può rimanere dietro A mitragliare Esattamente Questo è bello Questo è secondo me Una roba strafiga Dovremmo avere questa possibilità Questa è la parte più bella Che è fighissimo Passiamo praticamente Da aereo Ad elicottero Che è una figata pazzesca Sembra un Transformers Questo è questo aereo qua E praticamente A che cosa serve Secondo me Per stare Molto più fermi in aria Quando stiamo nella versione Elicottero Perché Una cosa che fa Quest'aereo come armi Adesso te lo faccio vedere Vediamo se riusciamo Allora prima di tutto Decolliamo e guarda Vedi che abbiamo anche Dei propulsori Ah del propulsore Esatto Dura poco Però ti permette Hai consumato in frettissima Però ti fa fare un bello sprint Esatto Quindi ti permette Con un aereo comunque Massiccio Di fare una partenza Molto veloce Dopodiché La cosa per me Spettacolare Aspetta Ho sbagliato tasto Ok Sono troppi tasti Con questo aereo Dovrebbe essere così Esattamente E guarda Fai un bombardamento Ciuu Questo è l'aereo della vita Allora Da questo voglio una risposta Da parte dei consulini Può stare il secondo Che sta in questo aereo Lì a tirare le bombe Mentre l'altro Si limita a guidare Mi è rimasto il dubbio Su questa cosa Quindi fatemelo sapere Perché sono molto curioso In ogni caso Dicevo che È molto utile Tenere questa forma Proprio quando vuoi tirare le bombe Perché ti permette Di essere molto più preciso Perché stai praticamente immobile Cioè rimani proprio statico Lì fermo Questa è una bella cosa E quindi guarda Ti metti a guardare il cielo L'aereo è fatto molto bene Questo secondo me È davvero un capolavoro E si potrebbe utilizzare Anche per qualche challenge Barra si può fare Ad esempio Te ne sparò già subito uno Pensa a tirare una di queste bombe Sopra il carro armato Sì Provare a centrare Bellissimo Strafigo Se ne possono fare troppe Questo è bello Lo so Proviamo a vedere anche Come ce la caviamo con l'atterraggio Comunque se notate Quando sta in questa versione È anche abbastanza veloce Però Dobbiamo anche dire Che questo qui È l'aereo che costa di più Perché costa Se ricordo bene Tipo 5 milioni e mezzo Che è davvero tanto E ad atterrare Ha grossi problemi Ma non frena Cioè che problemi ha Sembrerebbe che frena poco Frena davvero poco Perché stavo rallentando Però Non abbastanza E non mi è bastata Tutta la pista Per atterrare Quindi direi Che nell'atterraggio È abbastanza scomodo Però Scusami Se io faccio così Atterri piano piano In effetti Guarda Sì Guarda Sì Perfetto Spero che se vi esiste Tutto Facciamo un like E se è la prima volta Che avete visto il nostro video Potete considerare Iscrivervi Per non perdervi Gli altri episodi Ciao Alla prossima Ciao Ciao